Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo anno e iniziamo subito con gli auguri a tutti voi per questo 2023 Oggi ho deciso di iniziare quest'anno nuovo con un video che potrebbe essere interessante per chi è alla ricerca di una moto nuova Di una moto diciamo con un ottimo rapporto qualità prezzo nel segmento naked, enduro stradale e crossover Diciamo che vi butterò lì tre idee, tra quelle che secondo me sono le moto più interessanti, rapporto qualità prezzo per quest'anno Anche se in realtà di una moto non conosciamo ancora il prezzo ma comunque si è un po' già capito, si è già un po' intuito Quindi non vi parlerò delle moto che sono le migliori nel loro segmento ma di quelle che secondo me sono più interessanti E quelle che io andrei a consigliare sicuramente a chi mi chiede magari qualcosa di marca e con un buon rapporto qualità prezzo Diciamo quelle moto più commerciali, quelle che secondo me potranno vendere di più per questo 2023 Quelle moto più adatte diciamo a un ampio pubblico Quindi non quelle moto tipo Ducati, Maybe Augusta, bellissime ma anche super costose Ma moto con dei prezzi accessibili e interessanti per un ampio pubblico Allora dicevo che vi parlerò di tre moto diverse Quindi naked, quindi non maxi naked e non hyper naked Vedete quelle sono già moto, le maxi e le hyper con dei prezzi abbastanza elevati E diciamo a quei livelli molti vanno su una moto piuttosto che l'altra Più che altro guardando al marchio e all'estetica e anche ovviamente poi alla ciclistica Però i prezzi sono abbastanza allineati nel segmento maxi e hyper Quindi non lo trattiamo e poi sono moto più diciamo tra virgolette esclusive Più di alta gamma, meno quindi per un pubblico ad ampio raggio Stiamo nel segmento delle entry level Il limbo tra le entry e le medie e il segmento delle medie Poi parliamo dell'edro stradale Anche lì sempre segmento diciamo con un prezzo abbastanza accessibile E anche quello delle crossover Non parliamo di sportive perché il segmento comunque delle sportive è abbastanza morto In Italia comunque non vende tanto E non parliamo di moto non lo so da enduro Perché sapete che sul canale comunque non le trattiamo Anche se ho provato recentemente l'enduro Sapete qualche giorno fa e ripeterò l'esperienza Però sul canale non parlo di moto da enduro Allora iniziamo dunque con quella che secondo me sarà la moto che prossimo anno Anzi quest'anno perché siamo già nel 2023 Che quest'anno farà registrare grossi numeri in Italia Quella che secondo me è quella più interessante nel segmento delle naked E quella che dicevo venderà di più Sempre che la casa diciamo metta a disposizione le moto per chi vuole acquistarle Perché ultimamente c'erano stati comunque tra virgolette dei problemi di disponibilità delle moto diciamo nuove Con tempi di attesa anche abbastanza lunghetti Posto che non ci siano questi problemi Secondo me la moto della quale vi parlo adesso è quella che nel segmento delle naked Sfonderà di più quest'anno E quella che io sicuramente andrò a consigliare praticamente a tutti Quelli che mi chiederanno una moto A3 anche Quindi ovviamente che si possa utilizzare anche per A3 Che abbia un buon rapporto diciamo come prezzo Qualità prezzo e che sia anche di marca Ovvero la Honda con la sua Hornet ragazzi Secondo me questa è la miglior scelta per chi non vuole spendere troppo E andare nel segmento delle medie come naked E per chi non vuole spendere diciamo troppo poco O spendere uguale alla Hornet per prendersi dei prodotti Che di fatto non sono all'altezza Honda Hornet ragazzi Questa moto secondo me quest'anno sfonderà Quest'anno e anche prossimo anno e anche negli anni a venire Fino a quando non arriveranno altre case come Kawasaki diciamo o Yamaha Che aggiorniranno le loro entry level E magari riusciranno diciamo a spodestare la Hornet Hornet ragazzi è super interessantissima Ve ne ho già parlato diverse volte Anche perché la moto l'ho comprata lo sapete Quindi vi ho già detto la moto come è fatta Le caratteristiche L'avete vista anche all'Eco Ma su Youtube ci sono già comunque molte prove Da parte della stampa italiana e anche internazionale Che sicuramente avrete visto Io me la sono comprata gialla Perché non altre moto nel segmento delle naked? Perché le entry level tra virgolette vecchie MT07, 650Z, Kawasaki, SV650, Trident Tutte quelle moto sono diventate vecchie di colpo non appena Honda Ha presentato la Hornet e ha detto quanto costava A partire da 8.000 euro, 7.990 Quindi diciamo prendiamo uno straccio E cancelliamo il segmento delle entry level quello vecchio Invece il segmento delle medie può essere sicuramente più interessante rispetto alla Hornet Però comunque sono moto che vanno a costare di più Quindi se uno mi viene a chiedere Quale moto mi consigli Sì sono esperto Mettiamo O anche magari poco esperto E vorrei una moto comunque per divertirmi su strada Come rapporto diciamo peso potenza Qualità prezzo Quale mi consiglieresti ragazzi Anche come design io direi la Hornet Perché sì puoi andare comunque sulle medie Street Triple R Street Triple RS 7.90 Duke 8.90 Duke Anzi 7.90 Duke No 8.90 Duke La GSX 950 Oppure anche altre tipo la MT09 7.900 Ma sono tutte moto che vanno a costare oltre i 10.000 euro La Monster 950 Quasi 12.000 euro L'890 Duke GP Siamo sugli 11.500 più o meno Quindi tutte moto insomma Molto costose Tra virgolette Rispetto a una Hornet E che si offrono di più Come motore Come ciclistiche Però Sono anche se vogliamo Sovradimensionate Per l'utilizzo stradale Già di per sé Lo è un MT07 Cioè comunque su strada Con i limiti E tutti i vari problemi Già una 07 È abbastanza Però Il segmento comunque delle medie Ti permette di divertirti In strada Di spingere forte Però Alla fine È una moto La media Che sfrutti Veramente poco A meno che Non abiti In qualche parte strana Abiti Spagna Magari In qualche posto Con dei passi di montagna Belle strade larghe Senza tutto Che ti puoi divertire Ma qua in Italia Poi al nord In strada così Ce ne sono poche Più al sud Al nord invece Ce ne sono poche E poi sono anche Molto più impegnative Il livello diciamo Economico Di mantenimento E anche di guida Quindi Se uno Quest'anno Mi viene a chiedere Quale Naked Mi consigli Per non spendere Troppo E comunque cadere in piedi Come potenza Come estetica E come marchio Io vi direi ragazzi La Honda Hornet Velocemente Vi ricordo come è fatta Giusto due dati Perché avevano già parlato Fino allo sfinimento Ci sono 4 diverse colorazioni Io ho preso quella gialla Che è la Matte Gold Finch Yellow Con alcuni accessori Come estetica Io ve l'ho sempre detto È un po' piatta Non è bellissima Perché ricorda Una CB500F Più grossa Però comunque Si ragazzi Costa anche 8000 euro Ci sta che non sia la moto Più bella del mondo Come una Ducati Monster Comunque sia Secondo me Gialla È veramente molto bella Il motore È il motore nuovo Utilizzato anche Sulla Transalp Che è il motore Due cilindri Cilindrata 755 Potenza 92 cavalli A 9500 giri E una coppia Di 75 Newton metri A 7500 giri 7250 giri Scusate La moto pesa In marcia 190 kg Altezza sella 795 mm Serbatoio 15 litri Ora Era interessante Anche sicuramente La Suzuki Con la sua 8S Il problema della Suzuki Principalmente È anche Come estetica Che non è bellissima Secondo me E poi anche Come peso In quanto la Suzuki Comunque va a pesare Abbastanza di più Rispetto Al peso Della Ornette E comunque Parliamo di differenza Di circa 12 kg Che Comunque sia Non sono sicuramente 2-3 kg Quindi Non ho messo In questo video La Suzuki Soprattutto per il discorso Peso E anche estetica E poi comunque la Suzuki Va a costare un po' di più Invece Come ciclistica La moto Monta un telaio In acciaio Con struttura diamante La forcella della Showa Stai rovesciati Da 40 mm Un impianto frenante Con doppio disco All'anteriore 296 mm E al posteriore Singolo disco 240 mm Gommata 120 E al posteriore 160 Con ABS Discorso Gomma posteriore Questo diciamo Che è un po' L'unico Piglio Sul quale Magari attaccarsi Per criticare La Hornet Quello E magari anche L'estetica Comunque Il design Ve l'ho detto Anche secondo me È un po' piatto Anche se comunque Me la sono comprata La posteriore Invece La gomma Lì Ve l'ho sempre detta La gomma posteriore Più stretta Aiuta la moto Sicuramente Essere più agile Soprattutto Nei misti stretti A rendere la moto Più svelta Nel cambio di direzione Più maneggevole Più giocattolino Più rapida Nell'inserimento di curva Al contrario Comunque Sicuramente Tende a dare Un effetto Di Minore stabilità Rispetto a una Gomma posteriore Pochettino più larga Però in questo segmento Secondo me Quindi questo nuovo segmento Entri level La posteriore Più larga Potrebbe avere anche Tra virgolette Poco senso Cioè nel senso che Se comunque uno è esperto Avere 180 O quella Leggermente più piccola Non fa molta differenza E molto spesso Comunque In questi casi Il 180 Lo mettono Più che altro Per un fattore estetica Perché ricordano la moto Ricordano le moto Quelle più grosse Di cilindrata Quindi comunque sia Io da quello che ho visto La moto non l'ho ancora provata Perché mi deve ancora arrivare Da quello che ho visto Comunque dalle prove Della stampa Internazionale Soprattutto Quella americana Si sono tutti trovati bene Con la gomma 160 Quindi onestamente Secondo me Non è un problema Assolutamente Non avere 180 Come invece Alla Suzuki Invece come strumentazione TFT da 5 pollici Molto bella Con possibilità Di cambiare anche Il layout E la grafica Ce ne sono Di 3 o 4 preimpostate A pacchetto elettronico C'è il traction control Della Honda E 3 o 4 riding mode Più la modalità Che permette Di crearsi Un riding mode A sua misura Che sarebbe La modalità user Dove si può mettere Il brake control L'antimpennata Traction control Insomma Potenza Settare i vari parametri E ritagliarsi Un riding mode Su misura Che sicuramente È il riding mode Che userò io E poi ci sono Diversi accessori Da mettere sulla moto Il cambio elettronico Si paga a parte E costa 284 euro Circa Prezzo 7.990 euro Io vi consiglio fortemente Il cambio elettronico Se vi interessa Questa moto Cioè si può prendere Anche senza Però per un prezzo Così basso Tra virgolette KTM Lo fa pagare Il cambio elettronico Tipo 400 euro Honda 284 Up e down Dovrebbe essere Quello della Firebrake Come cambio elettronico E per quel prezzo E per quel prezzo Il mio consiglio Assolutamente Compratevelo Cioè Su 8.284 Per il cambio elettronico Assolutamente Li vale Quindi questa è la moto Che io consiglio Non la Suzuki GSX-8S Perché Non mi è piaciuta Come estetica L'ho vista dal vivo All'ECMA Poi l'ho vista dal vivo Anche in Concessionaria Durante la premiere Della Suzuki Toccata con mano Accesa la strumentazione Messa anche in moto Ve l'ho mostrata Comunque in un video Qualche giorno fa E non mi ha colpito Per niente Cioè In tutti i sensi Soprattutto a livello estetico In foto Più carina Dal vivo Onestamente Un po' Un po' Troppo azzardata Come estetica No Parte anteriore Carina Bella Fatta bene Ma la parte posteriore Onestamente Mi lascia un po' perplesso Quindi Suzuki E poi comunque Che va a costare 8.900 euro Anche se comunque La gomma posteriore È un 180 Ha leggermente Più coppia Però Difetto Ha meno potenza 83 cavalli E pesa anche di più Circa 12 cicli in più Quindi niente Suzuki Poi TFT Strumentazione Non connessa Che può essere interessante Per qualcuno Per altri no Comunque sia Non ha questa opzione E altre moto Insomma Ci sono sicuramente Di interessanti Nella fascia Delle medie Però vanno a costare Oltre 10.000 euro 10.11 In realtà Un'altra interessante Ci potrebbe essere Che è la KTM 7.90 Duke nuova A partire da 9.000 euro Cambio elettronico 400 euro Quindi 9.400 Se volete una moto Tra virgolette Un po' moderna Però Ecco 9.400 Non sono 8.000 euro KTM Non è la Honda Quindi io comunque Consiglierei sempre La Honda Seconda alternativa Consiglierei KTM Terza scelta La Suzuki Quarta scelta Street Triple R Se dovessi fare Una mini classifica Delle Naked Poi Segmenti invece Delle Enduro stradali Ragazzi In questo caso Parliamo di una moto Della quale Ancora non conosciamo Il prezzo Però si è intuito un po' Qual è il prezzo La Transalp Della Honda Ragazzi Honda A questo giro Ha sfornato Due moto Che distruggono un po' Secondo me Né come prezzo Né come caratteristiche Quindi semplicemente Diciamo Suzuki ci ha provato Si è avvicinata Ma Honda Secondo me Ha fatto meglio Tutto qua Kawasaki Ne ha anche risposto Kawasaki sta dormendo Da un po' Di tempo Yamaha Anche lì Dorme sugli allori Ma secondo me Yamaha Potrebbe arrivare Magari a breve Con qualcosa Nel segmento Delle Entrileve Con un motore Magari nuovo Da mettere Sulla Tenerè Magari sulla MT07 Ci potrebbe stare Perché secondo me Yamaha è un pochettino Più veloce Ad aggiornarsi Invece Kawasaki Veramente Sembra che stia dormendo Transalp ragazzi Questa moto Monta cerchi I 21-18 La Suzuki Monta I 21-17 La Tenerè Vi ricordo Che monte I 21-18 Parliamo di una moto Che può andare La Transalp Così come anche La Tenerè Così come anche La Tuarec Dell'Aprilia Così come anche La KTM 890 O 790 Adventure Sono moto Che possono andare In strada Tranquillamente Farsi dei viaggetti E anche andare In fuoristrada Tranquilli Senza nessun tipo Di problema E anche fuoristrada Abbastanza bello Pesante Ora la Honda Dalla sua Che cosa Il motore Della Hornet Che è un motore Più interessante Come potenza e coppia Rispetto per esempio Alla Tuarec Dell'Aprilia Rispetto anche Alla Tenerè Della Yamaha All'altezza All'altezza Più o meno Diciamo Del motore Della KTM 790 Adventure Però comunque La KTM Ha un motore Con un pochettino Più di coppia Rispetto Alla Honda E Soprattutto La moto Comunque Ha un peso In marcia Abbastanza basso 208 kg Che sono di meno Rispetto Sia Alla KTM Se non ricordo male Perché la KTM Pesa secco Sui 199 kg Più o meno E rispetto anche Alla Suzuki Con l'800 DE Visto che la V-Strom Nuova Pesa in marcia 230 kg Circa Quindi comunque La Honda Ha un buon motore E anche un buon peso In questo segmento Comunque Non è facile valutare Il rapporto Peso-potenza Non è che Semplicemente Come sulle Naked Dici La Transalpa Ha più cavalli Dell'altra Quindi è migliore Perché queste moto Qua vanno anche In fuoristrada E in fuoristrada Comunque Non serve avere Moto Con chissà quali motori Potenza e coppie Cioè comunque Tenere in fuoristrada Va più che bene Però in assoluto Pensando al fatto Che in Italia In tanti Comprano L'enduro stradali In realtà Per farsi dei viaggi Magari in coppia E non vanno mai In fuoristrada Alla fine Secondo me Insomma La Transalp Offre Un buon rapporto Peso-potenza E dovrebbe avere Comunque Un buon prezzo Insomma Vediamo un attimo Come è fatta La Transalp La Transalp Monta il motore Per l'appunto Della Hornet Che è il motore Che vi ho detto prima Con potenza 95 92 cavalli Con una coppia Di 75 95 Nm I giri Non vanno a cambiare 9500 La potenza 7250 Per quanto riguarda La coppia Pesa in marcia 208 kg Quindi meno rispetto Alla Vustromo 800 DE E meno anche rispetto Alla KTM Altezza sella 850 mm Come serbatoio Invece 17 litri circa Mentre sulla Hornet I litri erano 15 Come sospensione Abbiamo la forcella Sii rovesciati Della Showa Da 43 mm Un ripeto frenante Diverso rispetto Alla Hornet In questo caso Abbiamo il doppio disco All'anteriore 310 mm E al posteriore Il singolo disco 256 mm Gommata Con cerchi 21 18 90 90 All'anteriore E al posteriore 150 70 Presente L'ABS Doppio canale La strumentazione È sempre Il TFT Da 5 pollici Con bluetooth E abbiamo sempre Riding mode Con modalità Anche gravel Riding mode È chiamato gravel Sempre traction control Sempre l'antimpennata Sempre brake control E sempre il livello Di erogazione Di potenza Prezzo al momento Non ancora conosciuto Però dovrebbe essere In teoria Da quanto sia un po' Capito In giro Dovremmo stare Attorno Agli 11 Mila euro Così si va a pensare O 11 O leggermente sotto Diciamo che questo Più o meno Potrebbe Potrebbe essere Il prezzo Della moto E Honda ancora Non l'ha messo Sul sito ufficiale Prezzo Ce l'asterisco Se fosse effettivamente 11.000 Vorrebbe dire Circa 500 euro In meno Rispetto alla V-Strom 800D Della Suzuki Che però È anche più pesante E vorrebbe dire Che andrebbe a costare Quanto la Tenere Della Yamaha Visto che Tenere Quest'anno Di prezzo È aumentata E va a costare A partire da 11.000 euro Mentre Costano di più La Rally Edition E la World Ride No La World Ride addirittura 13.100 euro Quindi va a costare Anche 1.000 euro In meno Circa rispetto Andrebbe a costare In teoria Circa 1.000 euro In meno Rispetto alla Tuareg Che parte da 12.000 euro Insomma La Transalp Ha il nome Comunque molto forte Nel campo Delle Nero stradali No È un nome Super conosciuto È una Honda E a quel prezzo 3.000 euro In teoria Circa in più Rispetto alla Hornet Capite che È un prezzo Molto molto Appetibile E sarebbe una moto Secondo me più interessante Rispetto a una Tenere In Italia Tenere vende Veramente tanto Però A Honda Mette sul piatto Comunque una moto Con un motore Un po' migliore Potenza coppia Un po' peggiornata Anche come pacchetto elettronico Visto che L'elettronica È assente Sulla Tenere E insomma Capite in assoluto A quel prezzo Sarebbe veramente Molto molto interessante Quindi questa È l'altra Che vi consiglio In realtà Ci sarebbe anche In questo caso La KTM Con la 790 Adventure Che va a costare Anche lei Circa quanto Potrebbe costare La Transalp Sulle 11.000 euro KTM Mette sul piatto Una moto Rivista Un po' come estetica Rispetto alla vecchia versione Carina sicuramente Il motore Più o meno Potenza simile Però Coppia un pochettino Più alta Però è sempre lì Il gioco Della Naked Cioè Tra una Honda E una KTM Come marchio Come affidabilità È tutto Io Io personalmente Consiglierei Di più Una Una Honda Onestamente Questo è Il mio consiglio Quindi ecco Nel campo Delle Due stradali Tra virgolette Medie Mettiamo così Io consiglierei Per quest'anno La Transalve Però Prezzo Non è ancora Comunicato E vedremo Quante moto Arriveranno E quando Arriveranno Come estetica La moto Non è il massimo Un po' come Il discorso Della Hornet Ricordo un po' La CB500X Però Però Da qualche parte Ragazzi Le case Devono tagliare Per contenere I prezzi E comunque Se diciamo Che la livrea Quella storica Quella bianca Alla fine Non è neanche Poi così brutta Quindi Naked Hornet E Enduro Stradali La Transalve Per quanto riguarda Invece Il terzo segmento Le crossover Il mio consiglio Va sempre Alla Tracer 9 Crossover Vi ricordo Hanno le cerche Del 17 Quindi sono moto Che non sono fatte Per il fuoristrada Mentre L'enduro stradali Sono più polivalenti Cioè Possono fare fuoristrada Ma anche strada Ma non sono così comode Come le crossover No Quindi Se vi state chiedendo Cosa è meglio prendere Tra una Enduro stradale Tipo una Transalve E una crossover Tipo una Tracer 9 Dipende Cosa dovete farci Se Pensate di fare Anche Delle uscite in fuoristrada Ovviamente Una Transalve O comunque Un Enduro stradale Se invece Volete una moto Per viaggiare E basta Ragazzi Andate sulle crossover Lasciate perdere Le moto Con cerchi 21-18 In questo caso Ragazzi Secondo me La miglior crossover In assoluto Da diverso tempo È la Tracer 9 In effetti In Italia Avendo un macello La Tracer 9 No Parliamo di una moto Con cerchi stradali Da 17 Recentemente Il prezzo è aumentato 12.200 La base 14.700 La GT Che ho provato io L'anno scorso O meglio Due anni fa Ormai 16.500 La nuova GT Plus Condirata L'anticollisione I prezzi Sono aumentati È vero Ma la moto Secondo me Rimane altamente Valida Lo stesso Perché va a costare Molto di meno Rispetto Al segmento Delle maxi Crossover Ducati KTM Quelle moto lì Che vanno A costare Oltre i 20.000 Euro Che io ho Anche provato Però vi dico Su strada Quelle moto Sono comodissime Ciclistiche ottime Pacchetti elettronici Pazzeschi Motori allucinanti Ma Come motore Soprattutto Veramente Troppo troppo Per l'utilizzo Stradale No Quindi ok Hanno il vantaggio Le maxi Crossover Di Avere un'ottima comodità Anche in due Sospensioni elettroniche Simeattive Quello che volete Però Sono anche moto Molto molto costose Oltre i 20.000 Invece Yamaha 12.000 La base Se volete La GT Che io vi consiglio Tra le tre 14.700 E andate belli tranquilli Grazie al suo motore Ciclistica E anche pacchetto elettronico Velocemente Vi ricordo un po' Com'è fatta La Tracer 9 Che anche quest'anno Secondo me Comunque Venderà tantissimo Tracer 9 Che ho provato Due anni fa Monta il motore CP3 Della Yamaha Che è quello Della MT07 Potenza 119 cavalli 120 cavalli Scarsi 10.000 giri Coppia 93 Nm 7.000 giri Il motore È un tre cilindri CP3 8.90 Il peso Siamo Per la normale 200 13 kg In marcia 220 Per la versione GT Con sospensioni Elettroniche Semmettive Della Kayaba E un serbatoio Attorno ai 18 litri Se non ricordo male Circa No Come ciclistica Ovviamente Abbiamo Oltre il delta box In alluminio Sospensioni Interessante Sulla GT In quanto Sono elettroniche Semiattive Della Kayaba E ABS presente Con piattaforma Inerziale A6 Assi Piatforma Imo La strumentazione È molto carina Anche se Non troppo efficace Come sulla GT Plus È comunque Sia carina Particolare Doppio schermo TFT Da 3.5 pollici Paccato elettronico C'è l'ABS Cornering C'è Traction control Riding mode Break control Sliding control E Cambio elettronico Copy down Sulla GT Che io vi consiglio Sulla GT Plus Avete tutto Quello della GT Più anche All'anticollisione Active cruise control Che però È soltanto anteriore Cioè Voi impostate Una distanza Dalla moto O dall'oggetto Che vi precede Macchina Moto Quello che volete Camion E la moto Terrà la distanza Da sola Automaticamente E può essere utile Soprattutto in autostrada Nei vari spostamenti Ci sono due Livree Per quanto riguarda La versione base La redline Quella rossa E la midnight black Ci sono due Livree Per la GT Che sono La midnight black Con cerchi Però in questo caso Dorati E la pure white Che è veramente Un amore Bellissima Come colorazione E non mi ricordo Quante Forse due livree Anche per quanto riguarda La GT Plus O una o due Comunque sia Tutte belle colorazioni Per quanto riguarda La Tracer 9 Di quest'anno E che dire Ragazzi A questi prezzi È super consigliata Io l'ho provata Frena bene È molto comoda Come dimensioni Anche Non è troppo grossa Troppo ingombrante Sospensioni Semiattive sulla GT Che sono veramente Fantastiche Il motore Spinge bene Motore che spinge Forte Buona potenza Ma soprattutto Anche una buona coppia Il motore Delle M209 Quindi negale media E in assoluto Ragazzi Vibra poco Poco effetto On off Buon pacchetto Elettronico Molto avanzato Quindi secondo me A questo prezzo È la viaggiatrice Migliore Da portarsi a casa Vi ricordo Che la GT Come differenza Rispetto alla base Ha le borse Laterali di serie Il cambio elettronico Up e down Manopole riscaldate E Sospensioni Semiattive Della Cariaba Che non mi ricordo Se le ho citate Comunque sia Costa un po' di più Ma ha anche Un po' di più Rispetto Alla versione normale È più pronto Diciamo Già subito Per farsi Dei viaggi Queste sono le tre moto Secondo me Più interessanti Per quest'anno E quelle che io Andrò a consigliare A tutti quelli Che mi chiederanno Insomma Informazioni In tal senso Di interessante Sicuramente ci potrebbe essere Anche la Benelli Con la sua 702 Il problema è che Hanno messo Un generico Arrivo 2023 Se non sbaglio Seconda metà 2023 Che è un gioco Che Benelli Ha fatto anche Sulla TRK800 L'anno scorso Poi la moto Non è arrivata Ripresentata All'ECMA 2022 Quindi non sappiamo Se effettivamente Benelli Rilascerà Quest'anno La 702 O magari Si ritterà Al prossimo anno Cioè diciamo Che Benelli Dice delle cose Poi ne fa altre Dovrebbe arrivare La 800 Ma la 800 Dovrebbe comunque Costare un po' di più Rispetto Alla 702 E di fatto Rimando Essere anche Un po' Meno interessante Quindi Ecco Queste qua ragazzi Sono le tre moto Purtroppo Niente Kawasaki KTM Molto interessante Ha fatto bene KTM Sicuramente A rispolverare Le vecchie 790 Il vecchio Tra virgolette Motore Fatto però Dalla CFMoto Per esempio L'Adventure Nuova È costruita Dalla CFMoto E ha fatto bene Perché comunque In questo modo Riesce un po' Contrastare La Honda Con le moto nuove Più di quanto Non faccia La Suzuki Il problema È sempre lì KTM E insomma Come marchio Tra Honda e KTM Come affidabilità Come affidabilità È tutto Io andrei più Su una Honda Che poi Quello che ho fatto Che non Su una KTM Però KTM Comunque sia ragazzi La 790 Nuova Naked E Diciamo L'endro stradale Sicuramente È molto interessante Triumph Anche molto interessante Anche lei Però Ripeto Il segmento Delle Naked Per esempio Sti Triple R Va a costare un po' Di più A partire da 10.400 E Comunque sì Siamo sempre lì Insomma Buone prestazioni Ma a quel punto Se la va a giocare Contro Per esempio Una Z900 E Tra Kawasaki E Triumph Forse Per la massa Tra virgolette Io consiglierei di più La Kawasaki Come affidabilità Eccetera Eccetera Da questo video Ragazzi È tutto Aspettiamo Il prezzo Della Transalp In tanti aspettano La Transalp Non appena Honda Comunicherà il prezzo Lo metterà Sul sito ufficiale Quindi io potrò Dirivelo Effettivamente Aggiornirò Le info Di questo video Vi porterò Poi un altro video Opposta Sulla Transalp Però Dovremmo In teoria Essere Su queste cifre Qua E se va Come per il discorso Hornet Contro GSX8S Dovrebbe costare Un po' Di meno Rispetto Comunque Diciamo Alla Suzuki Un Stromo 800 Se l'800 Di E Costa 11.500 Di rimanto In teoria Capite il gioco Dovrebbe costare Sulle 11.000 La Transalp Da questo video È tutto Nei commenti Fatemi sapere Insomma Voi cosa ne pensate Quale moto Volete comprarvi Quale moto Secondo voi È più interessante Nei vari segmenti Ci sta Che la pensiate In maniera diversa Rispetto a me Per carità Quindi scrivete Quello che volete Nei commenti Che poi magari Vi rispondo Non appena riesco Da questo video È tutto Mette un like Se vi è piaciuto Iscrivetevi Alla scena di YouTube Con lo Instagram Viene il back L'ufficiale Noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video Ciao a tutti